E' rimasta la magnolia, il cedro che era sull'anno, e il gruppo delle tre cose, delle tre tuie, cioè quelle verdi gialle. E' una cosa delizia della Maria, perché era quella di che cazzo la voglia, ma le mette in giù. E' una cosa profumatissima, sono tanti di quei fiori. Cos'è? Una tante di fiori? Siamo adesso, una bella ripresona. Piccola per piccola. Cucu! Abbronzata. Anno. Faccio a vostro impegnato, eh? Grazie. E' visto qua, a fine Franco? Quando ero a casa aveva 5 anni, 6 anni, 6 anni. Guarda, se non somiglia a suo figlio. Non è suo figlio. Ho mio fratello, che ha una foto simile. Credo, credo. Se l'inquadro bene? Si, ma è un po' sfocata, come cosa, piccolina. Ma la Maria è bellissima, però. La mia fratello. La mia è precisa. La stessa è ripostata. Guarda, che fisico. E vabbè, non ci siamo altro, va. Guarda che monumento, Franco. Guarda, 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 guarda. Anna. Anna, guarda, guarda. Che bella fazione. Anna. Ciao. Guarda, 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 guarda. Ciao. La mattina per solizzarietà l'ho fatto. No, dopo lo prendo io. Oye Riccardo! Signore, signore! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! La mattina è diva. Sì, sì! Aller! ciao faccio gli effetti speciali faccio gli effetti 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 faccio gli effetti